Si avviano la conclusione, i riti della settimana santa in molte città si sta ancora svolgendo la tradizionale processione dei misteri. Nei prossimi telegiornali naturalmente vedremo le immagini. Intanto rivediamo ciò che è accaduto questa mattina quando sono terminate le processioni dedicate alla Madonna addolorata. Cominciamo da Taranto. Andiamo a Trani dove si è svolta una processione particolarmente suggestiva. Dopo la tradizione e i riti della santa Pasqua parliamo della tavola che si imbandisce il giorno di Pasqua. Vediamo quali sono i prezzi e che cosa bolla in pentola. Dalla carne al dolce c'è ancora chi deve scegliere la portata finale tra l'uovo di cioccolato oppure la colomba. Tante le possibilità anche grazie agli sconti. a fare l'uovo di cioccolato.